Ben tornati al nuovo appuntamento di SOS Rezzotv, buonasera Beppe. Ciao Fabio. Come va? Tutto bene? Bene, bene. Siamo tornati in Piazza Grande, ogni tanto ci torniamo. Ce l'ho stato anche noi, nei giorni scorsi era molto più affollata. Beh, c'era la foto antiquaria, insomma un evento che porta sempre tante persone. Tanta gente, questo è importante, far rivivere questa piazza ogni tanto, perché vedi oggi diciamo l'altro giorno la gente è molto molto meno. Ci sono queste macchine brutte che disturbano. Però già molto meglio di quando ci eravamo stati a febbraio, ti ricordi? Facciamo una chiacchierata con la lista. Siamo qui però perché ci è stato segnalato che, sai che si parla molto di disabili, di accesso, eccetera, che c'è questa rampa che è già qualcosa, non è bellissima da vedere, però almeno potrebbe servire ai disabili a, diciamo, poter accedere alle logge vasari, però come vedi all'inizio di questa rampa c'è un scalino e quindi di fatto è una barriera nell'antibarriera, no? Hai fatto anche la prova dell'inciamo. Esatto. Cioè è una barriera dell'antibarriera. Io sono uno strattento, non soltanto l'invalido, ma c'è qualcuno qui ci diventa invalido, ecco, perché lo crei l'invalido qui, perché effettivamente con questa gomma nera continua non ti rendi conto che c'è lo scalino, quindi si cade molto facilmente, quindi o la mettono per bene o altrimenti la tolgono, perché qui si è rotta un'asse e quindi di conseguenza c'è questo ostacolo qui che è pericoloso. Eh, insomma. Il nostro operatore riprende anche quella colonna. No, qui la situazione è un po'... Tutte queste colonnate qui delle logge vasari hanno dei problemi, ma questo credo che sia conosciuto anche... Sì, poi anche... Alla fine è conosciuto... Non si può riprendere anche là in basso, lasciare in giro quei pezzi di cemento sicuramente servono per... E poi è tempo, tanto tempo mi sa che è lì. Esatto, sono pericolosi, perché sono qui, sono anche davanti al Palazzo di Fratelli, insomma lasciando in giro così sono pericolosi. Quindi, non so, è un piccolo attenzione che andrebbero mantenute per far sì che poi magari non si creino problematiche che poi costano al Comune perché bene o male diventano... Se uno ciampa qui, fa una denuncia all'amministrazione, dici sì, ma è assagurato, sì, è assagurato, però intanto i problematiche si possono creare. Oltre che poi appunto chi ci passa, chi può camminare, ci sono poi i disabili che magari dicono, ah che bello, finalmente c'è una rampa... Esatto. ...e poi invece trovano l'ostacolo che non ti aspetti. Esatto. Quindi bisognerebbe che si intervenisse... Questa piazza, eh? La piazza, sì, è assolutamente bella. Non va bene, dico questa casa qui sulla destra... Lascia stare le case, che c'è? È brutta. Ma chi è stata fatta? Ah no, ma scusa, ma... La brutta... Per la bellezza della piazza, non so, un po' di manutenzione esterna, tu lo vedi, idemela giù, l'altra sul marroncino è proprio brutta. Oggi sei polemico. Non è che sono polemico, è che la piazza è bellissima, è unica e sicuramente mantenerla sarebbe bello, quindi abbiamo dei palazzi molto belli, torri molto belle e vedere qualche casa in queste condizioni, che sono due piccole, poi due o tre piccole case, è effettivamente stona. Vabbè, diciamo che poi ci sono anche altre questioni appunto... Sì, vabbè, poi ci sono le colori delle loggie vasali che... Lì, è quello che mi sembra che... la loro condizione insomma è abbastanza precaria. Luca, scusa. Queste di fronte, così, fanno veramente pena, insomma, era meglio lasciarci, che si vedeva il sasso di sotto, perché butta lì un po' di cemento per cercare di metterla apposta, veramente brutto, dai. Vabbè. Diciamo, la piazza è splendida, potrebbe esserlo molto di più. Poi in questo momento che ci siamo noi, ancora di più... Ma perché ci sei te, soprattutto. No, perché ci siamo noi, ho detto ci siamo noi, dai. Il radi della tua luce. Sono modesto questa volta, ci ho messo accomodato anche te e anche il nostro operatore. Mi fa molto piacere. Va bene. L'operatore dice di stringere, quindi insomma, rifacciamo l'appello affinché questa pedana, insomma, venga messa a posto per... È il lavoro da 5 minuti. ...i diversamente abili, esatto. Tra l'altro è anche la dimostrazione che, per carità, non sarà bellissima, però può essere efficace. La dimostrazione che magari anche tanti negozi, o comunque anche in altri luoghi della città, potrebbe essere risolto il problema con queste piccole pedane. Sì, sicuramente sì. Quindi a volte, diciamo, il problema viene messa meglio, per la gente così, perché sennò diventa un pericolo ulteriore. Anche infatti qui, essendo anche in pendenza, insomma, è un po' complicata già di su. Va bene, ha detto di stringere, dai. Più con lo scalino, capito? Bene, ci stacca se no. Stacca, stacchiamo noi allora.